Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Camilla, oh dolce Camilla, ci siamo affezionati a te, sei stata carina, ti vogliamo bene Vorrei annusarti i capelli e confermare che non ti sono affezionati Camilla, Camilla, Camilla Ti perdono però sappi che sei stato proprio strusso Io ti chiedo scusa con tutto il mio cuore, ti amo Mi si è tolta la ciglia Come mi metti? No, vabbè Sto esagerando, lo so Sto esagerando, sto esagerando No No, niente, grazie Salve su OnlyFans e abbonatevi se volete vedere qualcosa Qualcosa? Non esageriamo adesso Non troppo qualcosa Il minimo indispensabile per... Guarda che in realtà è il minimo indispensabile Ho avuto una discussione recentemente Si Con una ragazza al bar del... Non quadrai i piedi per favore Grazie Ok Non così Oh mio Dio Ancora Dio La mano Madonna Hai rotto il cazzo Friga Te lo lancio No No Oddio 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 Non ne ho idea Sto facendo tipo i trick Ci sta intrattenendo Non so Adesso non ha buona camera No no Va bene Perfetta Sei perfetta Oddio Non potrai fare Guardalo Ma quanto cazzo va veloce Ma che cos'è Eh no no Lascia Lascia Ormai non si vede più tanto Eh lascia Ok Ormai tanto non si vedrebbe più Ma cazzo ma è nata Quanto c'è Sera velocissima Da 0 a 50 No ormai ho cicchiato Dei maschi Ah Vabbè scusa Niente Tu ho tirato Scusami Tranquilla Noemi Scusami Scusami Vabbè Non parliamo di niente No ormai No ormai Lasciamo per terra No ormai No ormai No ormai No ormai No ormai No ormai E non sto fumato Io studio Perché sono Femmi di fredda Non sei truccata no? No solo il mascara Solo il mascara? E si è pure tolto E' vero Per prima che Vabbè Insomma Vabbè quindi Siete degli idioti Ma in realtà Non è perché siete idioti È perché non vi truccate Quindi non potete capire Non potete capire Giustamente Qual è la roba più strana Che hanno fatto Per farsi tipo notare In giro Tipo in Irlo Alla 27 gioppi Ah sì Fabi Fabi Allora Fabi Fait Fai capire chi comanda Fabi Fait Sempre Capito Clippa Mi raccomando Clippa Che questa Ce la rigiochiamo Il gabbrone Il gabbrone mi ha detto Che sono un grande stronzo Ma non è vero No non è vero C'è una sigaretta No non c'è una sigaretta Gabbrone saluti C'hai un euro Non c'è un euro Gabbrone saluti mia madre Ok Tipo oddio non capisco No alto alto Ok Apri tantissimo gli occhi E fai Bello Bello Sì Vorbero Che bella Forca Raga andate sul mio Instagram Per vederla Ti sta bene E però Mi inquadro adesso Poi Sono imbarazzo C'è mi inquadro Su una banda bianca Massimo Borsetti Capitan Schettino Entro in banca Perché poi rapino Sto con Mussolini E dei fascisti in giro Non mi frega No 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 Con Mussolini No Solo con i fascisti Raga Rifatelo Rifatelo Anche se sono contro Le ideologie politiche Di tutti Io sono apolitico Non mi interessa di politica Fanculo la politica Non mi interessa Non parliamo di politica Fanculo Con chi sta però la cucciola Bruttissimo gesto Bruttissimo gesto Brutto 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 Allora Va bene tutto Ma noi li vogliamo Instagram Bro Io e il mio bro da Vogliamo Instagram Instagram Lo spot Spot Emanuele Lopo che vende le buffe 2800 tiri a 10 euro E io invece spot Emanuele Petuschi che ha una bella sagoma nel bagno in centrale E io invece spotto l'uscita Oh spoti l'uscita Non è questo forse Oh incredibile Chi è? Poi vabbè chiaramente se poi ci continua a uscire col fighetto Non è che faccio la fighetto ogni volta Cioè dopo un certo punto io dico Senti andiamo dai Che papà Chiaro 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 Però ci sta ogni tanto fare Qualcosa di un po' più La signora elegante Ci sta Sì 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 No ma ne intendo Quello sì però Nel senso Cioè comunque mi pare Ti sai adattare bene Ad ogni tipo di contesto Cioè non è che ti accontenti Ti sai acquare bene Devo girarla No mi devo slacciare questo Perché te lo devi slacciare? Fa malissimo Ma che cazzo è scusami Il consenso Che ti stringe la pancia Fa vedere Posso provarlo? Meglio di no Secondo me ti fai male Aspetta Aspetta Ti do una mano però Secondo me ti fai del dolore Me lo spazzo Assolutamente Assolutamente La cosa più Emiliano è quello con i riccioli Che ha parlato poco fa Chi è Emiliano quello con i riccioli? Sei tu Emiliano? Sei io Emiliano Fabi Faits Fabi Faits Oddio Fabio Che cazzo Fabi È mio fratello Fabi Fabi Bro mi dà i soldi lui eh Lei lo so Mi torna pure a me Ma tu sei Sifa No io sono Zorien Mi dai 10 euro per lo spam bro E all'era Cazzo And this is a trapper So Search on Instagram One moment One moment Sì 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 No No Ovvio che ci stanno credendo Ci mancherebbe Siva 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 Ragazzi scusate una domanda velocissima per Tik Tok Stiamo facendo un piccolo Tik Tok veloce No 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 Tik Tok no No sono etano Tik Tok non lo voglio Ma che c'entra bro È una battuta No no greve sì No è una battuta eh No Ciao bro Sono etero raga Non vogliono fare il Tik Tok Ok ok Capito Ci sta Non vi faccio Mi metti molto Che cosa Tipo Tipo